Ora vediamo le caratteristiche della nuova linea B-Fit. Tutti i nuovi prodotti di gude della linea sportiva hanno queste caratteristiche. Innanzitutto c'è una fascia a vita doppiata con il loghettino che può essere utilizzata appunto piegata a metà oppure per un effetto più snellente, più contenitivo, alzata al massimo. Poi abbiamo loghettini scritte che rispetto ai precedenti sono immagliati quindi non più stampati sopra per cui non si rovineranno mai neanche dopo diversi lavaggi. La trama è a nido d'ape quindi dà un effetto più opacizzante e poi sicuramente sono molto traspiranti. Altra caratteristica importante sono le cuciture. Le cuciture sono piatte, come vedete, sono a quattro aghi copertura per cui non danno assolutamente fastidio durante l'attività fisica. Quindi come personal trainer non posso fare altro che consigliarvi l'utilizzo dei digute.